Prima e taglio, quali sono le caratteristiche del massaggio di uvedico per la tipologia Vata? La tipologia Vata è una tipologia che è collegata all'elemento aria etere. Il soggetto Vata è un soggetto molto disarmonico, ha una eccessiva emotività, parla molto veloce, perde spesso i confini del corpo e come lo dice proprio l'elemento, è un elemento aria, è sempre con la testa per aria. Il tipo di massaggio che andremo a fare è un massaggio energizzante, stabilizzante, utilizza una manualità molto veloce e ad effetto riscaldante per aiutare il soggetto a riavere un contatto con il proprio corpo e con la terra.